Due premi per ricordare la storia, 95 candeline dalla fondazione dell'Arezzo Calcio. È il Museo Amaranto a festeggiare così questo importante compleanno in una serata, in programma il prossimo 10 di settembre a partire dalle 20, per premiare personalità legate da sempre ai colori Amaranto. Il premio dal titolo Vecchio Cuore Amaranto andrà a Bruno Pichi, avvocato e giornalista sportivo, e Fabrizio Bulletti, preparatore atletico, mentre i nomi di Raul Tassinari e Francesco Graziani sono i primi ad entrare nella Hall of Fame Amaranto. Ci sarà un quinto nome che verrà svelato durante la serata e diversi riconoscimenti per l'amministrazione comunale, l'attuale società dell'Arezzo, Orgoglio Amaranto, Coni e Panatron. La serata si svolgerà nella sala stampa dello stadio Città di Arezzo ed è aperta a tutti i tifosi. Al termine della cerimonia ci sarà anche il taglio di una bella torta ed un brindisi. Per tutta la serata le stanze del museo saranno visitabili.